Il Portici festeggia la salvezza, il Molfetta saluta l'ultima trasferta del campionato con una sconfitta con onore. 4-2 per i campani al San Ciro in una partita che ha visto più ribaltamenti di risultato. La decidono le doppiette di Elefante e Prisco, decisive per rimontare un Molfetta passato in vantaggio con Trigiani e Afri. Portici con il 3-4-3 guidato da Prisco al centro dell'attacco, 3-4-1-2 per la squadra di Bartoli, Strambelli, assiste Variale e Trigiani. Portici subito pericoloso in avvio, Elefante, Pennella per Arpino, stacco a lato. Ancora padroni di casa pericolosi, rinvio maldestro di Arilson, Maglione si coordina, in rovesciata trova la prodigiosa risposta di Tucci. Monologo Campano in avvio, Prisco vince un duello a destra e apparecchia per Grieco che con tutta la porta a disposizione, cicca e calce a lato. È solo il preludio al vantaggio che arriva al diciassettesimo, Grieco da sinistra inventa Elefante, dimenticato dalla difesa, ha tutto il tempo di controllare e calciare con il destro. Conclusione a incrociare, Tucci battuto e 1-0. Primi segnali di presenza del Molfetta, metà frazione, merito del solito Strambelli, sinistro bello ma alto sulla traversa. Poco dopo la mezz'ora gli ospiti pareggiano, Strambelli pesca a free nel corridoio giusto, tocco sul dischetto dove rompe Trigiani. La telecamera non segue il pallone che entra però in rete, 1-1 e sesto centro stagionale per il centravanti. Il pareggio cambia completamente l'inerzia della partita e al quarantesimo il team di Bartoli mette la freccia del sorpasso, a Rilson sfonda a sinistra e assiste a free, chiusura perfetta sul secondo palo e spina battuto. Da esterno a esterno, 1-2 e Molfetta in vantaggio al riposo. Il secondo tempo parte con un portice all'assalto, dopo un tentativo di Prisco murato dalla difesa e Elefante a mettersi in proprio e siglare il 2-2. Ingresso in area da destra, finta su Dubaz e sinistro a giro che finisce alle spalle di Tucci sul secondo palo. Equilibrio ristabilito ma destinato a durare poco, esattamente 4 minuti. Al tredicesimo pinto con un retropassaggio killer in becca Prisco, gioco da ragazzi, controllo e sinistro alle spalle di Tucci, 3-2. Bartoli prova a dare una scossa ai suoi con l'ingresso di Contè. Il Molfetta fatica però a organizzare una reazione, a scuotere la squadra di Bartoli e il solito strambelli, sinistro dai 25 metri, pallone che sfiora il palo alla sinistra di Spina. Bartoli ci prova anche con la freschezza del giovanissimo Cianna Mea, classe 2005 all'esordio assoluto. Nel recupero è però Prisco a mettere il punto esclamativo sul risultato. Grieco vince un rimpallo e va in fuga a destra all'invito per il numero 9 e un cioccolatino da scartare a porta vuota. Gol del 4-2 e festa salvezza per il team Campano, che conferma la categoria con 90 minuti di anticipo.